Buonasera e bentornati nei nostri studi per l'approfondimento serale del lunedì. Migranti, nostra patria. Questo è il titolo che abbiamo voluto utilizzare riprendendo una frase di Don Lorenzo Milani, una frase che dice reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E questo anche per introdurci al tema di questa sera, immigrazione e accoglienza, per ricordarci che tutte le persone devono essere trattate con rispetto e secondo che i flussi migratori in ogni epoca hanno contribuito a modificare il tessuto sociale dei paesi coinvolti. In particolar modo lo spunto di cronaca che ci ha portato a organizzare questa diretta è il naufragio di circa 170 persone in questi ultimi giorni, 117 vittime a largo della Libia, tra cui donne e bambini e 53 morti in mare tra la Spagna e il Marocco. Purtroppo quindi ancora morti, un naufragio di grandi dimensioni all'inizio di questo 2019. Sul tema ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Questa sera vi presento Stefano Ferrari, operatore dell'area migranti del villaggio del ragazzo, benvenuto. E Chiara Carlini, psicologa dell'area migranti del villaggio, benvenuta. Ecco, allora, il nostro obiettivo è anche quello di fare chiarezza sull'aspetto dell'accoglienza e delle migrazioni con particolare riferimento al nostro territorio. C'è tanta confusione. Volevo subito chiedervi, parto da Stefano Ferrari, qual è anche un po' la percezione di questo fenomeno in questo momento qui in diocesi sul nostro territorio. Diciamo che negli ultimi due anni, avendo avuto modo di sperimentare da vicino questo nuovo fenomeno, questa ondata migratoria e, come dire, gli animi sono sempre attivi. La percezione anche, direi, nelle parrocchie, ma anche nella gente comune, nei singoli cittadini è molto forte, sia al di là del fatto che poi si parli di persone a favore o persone contrarie, sia all'accoglienza, sia alle nuove leggi o comunque al nuovo piano che socialmente ci si presenta davanti. C'è un'attenzione, forse e spero c'è anche sempre di più la volontà di tenersi informati, di cercare di capire e, come dire, per fortuna questa cosa ci interroga. Un piccolo dato positivo che purtroppo questa notizia anche dell'ultimo naufragio della barca porta è proprio il fatto che finalmente l'immigrazione, o meglio il dato umano dell'immigrazione, ritorna in auge, come dire, ritorna a essere la tematica un po' dei nostri giorni. Nel vostro lavoro, Chiara, quali difficoltà incontrate? State incontrando anche in questo momento nel portare avanti i vostri progetti? Allora, proprio l'altro giorno parlavamo con alcuni dei ragazzi di questo decreto ed è stato strano il fatto che alcuni di loro hanno proprio notato un cambiamento nei loro confronti da parte delle persone. Ad esempio un ragazzo di 20 anni che ha inserito all'interno del cazzo di Rapallo ci ha detto che spesso quando va per strada vede la gente che lo scansa e questa cosa lo ferisce molto e non riesce a capire il perché di questa reazione nei suoi confronti da parte delle persone. E molto spesso, appunto, grazie a causa dei media, vi è una percezione molto distorta del migrante e troppo spesso ci si dimentica del fatto che anche il migrante è una persona proprio come noi, con i nostri stessi bisogni e con una storia alle spalle e molto spesso appunto sono anche storie di un certo peso e dobbiamo anche pensare a che cosa spinge queste persone a lasciare la propria terra, la propria famiglia per un futuro incerto. E anche nell'ultimo caso appunto del naufragio, come diceva Stefano, alcune persone sono rimaste in mare 15 ore, si parla appunto di casi di ipotermia, congelamento, un bambino deceduto comunque grave e persone poi portate in un paese non sicuro, la Libia, dove appunto poi non potranno ricevere né cure mediche adeguate né trovare quel futuro che probabilmente cercavano. Ecco qui sul territorio comunque quello che è stato fatto in questi anni è un vero e proprio lavoro di integrazione che ha funzionato? Allora noi siamo una realtà molto piccola e di conseguenza riusciamo a seguire in modo adeguato le persone richiedenti asilo. Sono stati avviati numerosi tirocini, la maggior parte dei nostri ragazzi hanno più tirocini alle spalle, alcuni hanno anche avuto la possibilità di poter accedere a un contratto a tutti gli effetti. È stato avviato anche un laboratorio per madre richiedenti asilo, un laboratorio di sartoria per far sì che queste donne possano così imparare un mestiere e pian piano avere una loro autonomia economica. Questo appunto si riesce a fare in realtà piccole e con dei fondi adeguati. Stefano Ferrari, la percezione che si ha della sicurezza del fenomeno migratorio arriva sicuramente anche dai media oggi, però molto spesso, non so anche dal vostro punto di vista, c'è la volontà di andare al fondo della questione anche di queste storie oppure ci si ferma come dire alle voci della politica oppure dalla pancia tra virgolette delle persone? Che idea vi siete fatti? In realtà il nostro lavoro proprio anche di operatori è abbastanza polietrico, come dire. C'è una necessità di inserire i ragazzi nel tessuto sociale, però c'è anche la necessità di educare, mi permetto di dire, questo tessuto sociale alcune volte all'accoglienza dei ragazzi. Il nostro intento è sempre stato quello di calarci nelle situazioni, andare a fondo e ragionare con i ragazzi sulla realtà che li circonda, su ciò che avviene. Loro stessi hanno la percezione anche riguardo la sicurezza di essere messi, come dire, di essere presi di mira e in certi casi hanno la percezione che alcuni, delle volte alcuni connazionali o altri rifugiati, perché poi si rischia appunto di fare sempre il solito contenitore dei rifugiati e come dire, non aiutano forse in alcuni casi a migliorare la visione che si ha di loro. E c'è anche un'attenzione degli stessi ragazzi proprio a correggersi, a capire gli uni con gli altri e comunque far dialogare, dicevo prima, anche il tessuto sociale. Quindi le persone che si avvicinano, la sensibilizzazione che viene fatta nelle parrocchie, il grande numero di volontari che collabora con noi con entusiasmo e diciamo siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato insieme anche questo, forse questo nuovo lavoro, perché le comunità di ragazzi non sono comunità, come dire, le più comuni che possono essere di persone che hanno determinati tipi di problematiche, una comunità di disabili, una comunità di ragazzi in fase di recupero, una comunità di riabilitazione dopo il carcere. E quindi c'è anche da parte loro subito la necessità di responsabilizzarsi, cioè vengono subito a contatto con le persone, con un certo livello anche della società. Io dico sempre ai nostri ragazzi che sono fortunati, perché come dire, fin da subito hanno potuto usufruire di determinati servizi, conoscere determinate persone che nella società avevano già un grado alto, cioè le parrocchie danno anche questa possibilità. Ecco, ci puoi fare un quadro in questo momento dei progetti che sono attivi nella nostra diocesi e anche uno sguardo sul futuro? Sì, allora diciamo, prima Chiara si riferiva intanto ai tirocini, perché di fatto la prima cosa, al di là dei progetti, è proprio la necessità dei ragazzi di trovare un lavoro. Questo perché fino a qualche tempo fa gli permetteva di pensare che il lavoro fosse il punto sicuro sul quale puoi costruire il proprio permesso di soggiorno e la propria vita qui in Italia. Adesso questo sta cambiando, forse non sarà più così. Però certamente il lavoro anche agli occhi degli altri, della società che li circonda, è qualcosa che per loro è una carta di identità importante, come dire. E poi c'è la necessità, come dicevo invece poco fa, anche di integrarli con altri progetti, con altre attività. Noi nel nostro piccolo, infatti non sono numeri grossi, non sono neanche 30 ragazzi accolti, tra cui alcuni bambini e abbiamo cercato di capire quali erano le qualità dei ragazzi, perché si portavano dietro, come dire, nel loro bagaglio culturale, nel loro bagaglio anche delle capacità e alcune cose da portare a frutto, tra cui l'aspetto del cucito, della sartoria, di queste attività che li mettono in contatto con altre realtà, con altre persone, anche specialisti, professionisti in alcuni casi, che li possono introdurre senza dubbio al mondo del lavoro. E poi invece il grande successo hanno avuto anche l'aspetto di tutti gli incontri all'interno delle parrocchie dove, appunto, sia i nostri ragazzi, sia i ragazzi delle nuove generazioni, ecco, nelle parrocchie hanno potuto conoscersi e questo è stato importante per tutti, perché in effetti i volontari molti sono adulti e, come dire, magari hanno anche una visione particolare su certi aspetti o forse, come dire, per i ragazzi è importante anche confrontarsi, capire la società relazionandosi con dei loro coetanei. E sono una trentina, dicevi, in tutto il territorio. Una trentina, tra maschi e femmine. Dove sono esattamente per fare così una panoramica? Sono in tutto il Tiguglio, direi, a partire da, diciamo, in ordine di vecchiaia, i vari centri di accoglienza sono Castiglione e Chiavarese, Chiavari, quindi nello specifico le parrocchie di Rupinaro, San Giovanni e San Pier di Canne e poi le parrocchie di Rappallo che hanno, appunto, deciso di ospitare presso l'Istituto delle Suore Ursoline e poi una piccola fetta dello Sprar di Santa Margherita, quindi di un tipo di accoglienza che è insieme a un'altra cooperativa, Lanza del Vasto, dove noi operatori abbiamo, diciamo, il compito di seguire le famiglie, le due famiglie che sono state accolte. Ci sono dei progetti invece che devono essere attivati? Beh, dei progetti attualmente, insomma, ci sono un po' di cose, diciamo, sul piatto. Ecco, sì, perché da un lato c'è la necessità di, come dire, far capire ai ragazzi che se anche le cose stanno cambiando, noi tentiamo fino all'ultimo, come dire, l'appiglio alla realtà e quindi, come dire, per noi l'integrazione resta il punto veramente importante. E certamente continuiamo, al di là dei progetti che spesso, alcune volte, si sente parlare di alcuni progetti come se bisognasse inventarsi chissà che cosa, invece per noi è proprio importante, soprattutto con l'aiuto di Chiara, lo è stato, l'aspetto, continua ad essere l'aspetto del mondo del lavoro, l'aspetto quindi dei tirocini, l'aspetto dell'inserimento nella scuola sia dei più piccoli sia invece dei più grandi, perché devo dire che molti dei ragazzi sono riusciti a recuperare il loro livello di istruzione che arrivano nel paese d'origine o addirittura formarne uno personale nuovo, quindi seguendo la scuola per stranieri e arrivando al livello delle medie e con la volontà di proseguire poi con studi magari in scuole serali, professionali. E se questo livello di integrazione ha funzionato, almeno per il nostro territorio Chiara, perché appunto ha funzionato, che cosa, su quali punti avete lavorato? Allora di sicuro l'aiuto delle parrocchie è stato fondamentale, abbiamo tantissimi volontari che fin da subito si sono dati al 100% per far sì che queste persone si potessero sentire fin da subito accolti, sono stati appunto inserite all'interno della parrocchia, hanno cercato di trovare alcuni lavoretti, hanno accudito i bambini e questo è stato di fondamentale importanza per queste persone e bisogna continuare appunto questa inclusione sociale. Però se da una parte adesso sta, ci sono dei cambiamenti in atto, abbiamo lottato appunto dei cambiamenti in atto, della legge anche sicurezza, questo che Timoni riporta. Allora ad esempio sono alcuni mesi che stiamo tentando un ricongiungimento familiare e abbiamo molta difficoltà a trovare una sistemazione, ci sono saltati alcuni appartamenti appena hanno scoperto che si trattava di affittarli a una famiglia di colore ed è un problema che fino a qualche mese fa non avevamo mai incontrato e questo è un cambiamento in negativo che percepiscono appunto anche i ragazzi. Ringrazio per le vostre parole perché si può dimostrare appunto che è una buona integrazione possibile, che le persone possano arrivare sul nostro territorio, compiere un percorso di studio oppure di tirocinio, trovare lavoro e comunque essere all'interno di un tessuto sociale che li accoglie bene. Effettivamente ci sono poi anche altri enti che da tempo stanno portando avanti delle campagne di sensibilizzazione in questo senso, ad esempio Caritas attraverso la campagna Condividiamo il viaggio e possiamo vederlo anche sul loro sito dove in particolar modo riportano alcune leggende sulla migrazione, cioè quelli che sono alcuni dei temi più diffusi tra le persone. Ad esempio ne possiamo vedere alcuni che riguardano l'impatto dei migranti, in particolar modo oggi una delle frasi che viene più spesso ripetuta è quella ci sarà un'invasione dei migranti. In realtà sembra di capire che il numero è costante, è una percezione. Il numero è costante e siamo uno dei paesi in Europa che ha meno migranti. I paesi del nord Europa hanno quasi il doppio dei migranti accolti in Italia, mentre invece spesso dai media si ha la percezione che stiamo accogliendo tutta l'Africa, ma non è così. Si sta creando una propaganda dietro il fenomeno della migrazione. Vediamo sul sito di Caritas, dicono tra il 1960 e il 2015 il numero di migranti è aumentato da 1993 a 244 milioni, ma anche la popolazione mondiale è aumentata da 3 a quasi 7,3 miliardi e il numero di rifugiati è diminuito tra il 1990 e il 2010 con un aumento che è dovuto in gran parte alla guerra in Siria. Quindi come dicevi la situazione in realtà poi è appunto costante. Un altro tema di cui si parla, migranti e rifugiati vivono di benefici sociali e rubano. La realtà è che questa ricerca mostra che gli immigrati svolgono lavori che la popolazione locale spesso non vuole o non manca delle competenze necessarie per loro e che poi non rubano, in realtà pagano più tasse di quelle che ricevono nei sussidi. Questo lo vedete anche voi quando cercate lavoro ad esempio per le persone che sono ospitate qui sul territorio? C'è difficoltà in questo? C'è difficoltà. Più che altro c'è difficoltà non tanto nella ricerca dei tirocini, quanto nella ricerca di un lavoro a tutti gli effetti. abbiamo un ragazzo che è laureato in scienze politiche eppure si ritrova a fare dei tirocini da 200 euro, però sono antalmente tanta voglia di imparare e appunto di avere una loro autonomia che veramente vogliono accettare qualsiasi tipo di lavoro. Per cui anche questa percezione del richiedente asilo e del rifugiato che viene qui e vive nella bambagia, non è reale. Certo. Ecco, in questo probabilmente una buona responsabilità, lo dicevamo prima, lo hanno anche i media che riportano appunto quelle che sono le migrazioni, il fenomeno della migrazione. Allora abbiamo provato a chiedere a Rosa Maria Serrao che è la vice direttrice di Desk, che è uno strumento di comunicazione che viene utilizzato soprattutto dai giornalisti in area UCSI e che è stato nel passato membro delle relazioni esterne dell'Alto Commissariato per i diritti umani. Allora sentiamo appunto che cosa ne pensa sulla formazione anche da parte dei giornalisti che raccontano le migrazioni. Un bravo giornalista che cosa dovrebbe fare, che preparazione anche dovrebbe avere? La prima strada è una formazione eccellente. Avere cioè sempre come riferimento sapere il più possibile sui paesi di transito, sui paesi di origine di questi flussi migratori. è importantissimo capire quali sono le motivazioni che hanno portato queste persone ad abbandonare le loro famiglie, il loro tessuto sociale, i loro affetti, i loro ricordi, le loro tradizioni e quali sono i paesi che hanno scelto come paesi di transito perché non è mai nulla lasciato al caso. Sicuramente non si può fare a meno di un corretto uso della tecnologia perché un contenuto prodotto per la radio non può essere uguale a un contenuto prodotto per internet. A me spesso capita di navigare e di trovare in rete qualcosa che invece non è correttamente comunicato e non parlo dei social dove a parlare la gente comune, parlo di blog gestiti da colleghi, da giornalisti professionisti e questo sicuramente mi riporta all'ultimo punto che per quanto riguarda almeno il percorso che abbiamo fatto dentro Luxi è un punto fondamentale che è l'etica, l'etica che rende un beneficio enorme a chi approccia problemi così sensibili come quelli dei flussi migratori. Quindi rientrando in studio possiamo dire che conoscere e anche educare come diceva anche prima Stefano sono le parole che dovrebbero accompagnarci in questo periodo nell'accoglienza appunto dei migranti sul territorio però adesso con questa nuova legge di cui si attendono anche i decreti correttivi di per sé non sono ancora arrivati qualcosa appunto andrà a cambiare. In particolar modo voi che cosa avete capito anche per quello che è lo Sprar che appunto è stato portato avanti in questo periodo, i progetti che adesso sono in piedi resteranno oppure no e soprattutto quali sono i progetti futuri? Che cosa potete dirci Stefano? Beh in realtà, ora magari tralasciando l'aspetto più prettamente politico, diciamo c'è la sensazione che si sia voluta creare della confusione e forse questo è l'unico aspetto certo paradossalmente che abbiamo riscontrato. Ci sono i due famosi centri, diciamo le due tipologie di accoglienza, quindi il CAS che veniva ritenuto un po' al primo grado e lo Sprar invece il secondo grado, ovvero cosa voglio dire? Una volta ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di tipologia diversa, quindi un sussidiario a tempo parziale e la persona passava quindi dal CAS allo Sprar. Questo è vero e non è vero, nel senso che non è direttamente come dire, non c'è una sorta di propedeutica tra una cosa e l'altra. Ora ci sono due strade, il CAS che continua a essere e a rimanere gestito direttamente dalle prefetture e insieme agli antigestori come possiamo essere noi, cioè il villaggio del ragazzo. Quindi da un lato la politica non è direttamente coinvolta. Invece nel caso dello Sprar la politica è coinvolta, nel senso che il Consiglio Comunale, il Sindaco decide insieme agli enti gestori di aprire un'accoglienza a Sprar e anche perché ci sono come dire delle agevolazioni, da un certo punto di vista il Comune dovrebbe avere e rendere più facile anche la ricerca del lavoro, e anche la possibilità di integrazione. E quindi lo Sprar è gestito dal servizio centrale direttamente dal Ministero. Quindi in una prima fase sindaci contrari, sindaci a favore, quindi si decideva liberamente se si voleva aprire o meno. Mentre invece adesso se ne fa una questione politica, quindi quelli che sono attivi in un certo senso vogliono essere portati a chiusura. Si vuole come dire far percepire a mio avviso ai sindaci, alla popolazione in generale che a un certo punto questi fondi non verranno più dati, quindi lo Sprar rimarrà una realtà come dire che si andrà a svuotare e che non avrà un futuro. E questo è un po' il terrorismo psicologico che forse si è voluto creare. E di fatto la Prefettura, anche nei rapporti che noi abbiamo quasi settimanali con le Prefetture, con la Prefettura in particolare di Genova, c'è l'incertezza anche da parte degli stessi membri del governo territoriale e quindi sulla gestione e sulla possibilità di fare dei nuovi bandi che prevederanno il taglio appunto dell'indenità che saranno da utilizzare per i ragazzi. Quindi anche sui servizi la carenza pare essere forse qualcosa di qualcosa che si attuerà. Ecco, allora sul tema abbiamo in collegamento telefonico in diretta Elena Fiorini che è referente di ASGI per Genova. Buonasera. Buonasera. L'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, tra l'altro è stata anche ospite alcuni giorni fa a Sestilevante proprio in un incontro relativo alle migrazioni e all'accoglienza. Ecco, parlando della legge sicurezza, dal vostro punto di vista come va a cambiare dunque il sistema intanto del rilascio dei permessi? Dunque, ci sono diversi aspetti. Se vado sullo specifico della sua domanda, dal punto di vista del rilascio dei permessi, l'aspetto più rilevante, più macroscopico è la totale abrogazione del permesso per motivi umanitari, che è un permesso che serviva a dare copertura a tutta una serie di obblighi costituzionali, ma anche derivanti da convenzioni internazionali, di carattere umanitario. Quindi posso fare un esempio, tutte le persone che nel loro paese non hanno l'esercizio delle libertà democratiche o comunque hanno dei profili di particolare vulnerabilità. Ecco, questo permesso è stato totalmente abrogato ed era uno dei permessi più rilasciati dal nostro paese, non tanto perché fossimo molto larghi nel riconoscimento della protezione internazionale, quanto perché vengono usate meno rispetto al resto d'Europa delle forme di protezione più forte, come lo Stato scurifugato o la protezione sussidiaria. Una cosa rilevante da dire è che a fronte dell'abrogazione del permesso per motivi umanitari e del fatto che questo tipo di permesso non potrà essere rinnovato per gli stessi motivi, noi abbiamo l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, che predice circa 130 mila irregolari nei prossimi due anni. Quindi sostanzialmente per le difficoltà legate all'abrogazione di questo tipo di permesso e all'impossibile rinnovo dello stesso, noi andremo ad affrontare quello che in realtà è proprio l'antitesi della sicurezza, sia per le persone coinvolte sia per le comunità che sono intorno a queste persone coinvolte. Quindi in realtà l'affermazione che si sente spesso dire, quello rimarrà soltanto chi ha diritto, non è un'affermazione esatta, in realtà ci saranno più persone per la strada con tutto quello che ne consegue. Assolutamente, e anche il tema dell'aumento dei tempi di trattenimento, perché non dimentichiamo che sono stati aumentati i tempi di trattenimento fino a 18 mesi, quindi dei centri sostanzialmente di detenzione per persone che non hanno commesso alcun reato, ma che semplicemente sono irregolari sul territorio dello Stato. Ora, questo aumento dei tempi di trattenimento che dovrebbe essere finalizzato all'espulsione è un fake, perché quando erano stati in realtà ridotti i tempi di trattenimento, e sto parlando del 2002, questa cosa era stata fatta anche su richiesta degli operatori delle forze dell'ordine, perché era stato dimostrato che aumentare i tempi di trattenimento non aumenta le possibilità di rimpatrio. Le possibilità di rimpatrio per la gran parte delle persone non ci sono, i numeri dei rimpatri sono dei numeri bassissimi e non sono mai stati efficaci per contrastare un fenomeno, se vogliamo parlare di efficacia, cosa che personalmente io non farei, però vedendola anche semplicemente dal punto di vista numerico. Quindi sostanzialmente il tema del rimarrà solo chi ha diritto e strutturare il diritto su degli elementi che sono in contrasto con i diritti umani e soprattutto con il diritto è un qualcosa che non costituisce nulla di realizzabile. Ecco, se ogni anno, almeno nei prossimi due anni, 65 mila persone si troveranno sulla strada, e questo che cosa comporterà secondo lei? Beh, l'esclusione, la precarietà, ma questo non lo dico io, lo dico nei sociologi, comunque comporta normalmente un aumento dell'insicurezza per il complesso circostante, aumenta gli indici di reato, aumenta la difficoltà di poi sapere chi c'è sul proprio territorio, non dimentichiamo che un'altra disposizione che è stata introdotta è stata quella di non fornire la residenza ai richiedenti asilo. Ora, la residenza è un strumento essenziale di politica delle amministrazioni finalizzato a sapere chi c'è sul proprio territorio. Ora, voi capite che se noi, in modo del tutto arbitrario, impediamo una categoria di persone di avere una residenza, questo determina il fatto che queste persone sono sradicate, non sono incluse in una comunità locale. Ecco, che questo porti una maggiore sicurezza, direi che è sicuro che non lo farà. Ecco, qui in studio ci sono due operatori del Villaggio del Ragazzo, che è un ente che rappresenta un'eccellenza, almeno nel nostro territorio, che da alcuni anni si occupa di accoglienza. Sono Stefano Ferrari e Chiara Carlini. Vediamo se anche da loro forse ci sono alcune domande, visto che anche loro si stanno preparando all'attuazione di questa nuova legge, quindi ai nuovi requisiti per l'accoglienza. Non so, Stefano, iniziali tu. Sì, grazie, intanto saluto la dottoressa Fiorini. Volevo invece capire meglio l'aspetto dell'anagrafe. La mia domanda riguarda se esiste una discrezionalità da parte del sindaco di poter accogliere l'inserimento anagrafico della persona richiedente asilo, quindi se di fatto con la nuova legge si può in qualche modo iscrivere i ragazzi che non l'hanno ancora fatto, che non lo avessero ancora fatto all'anagrafe e se poi esiste, è venuto fuori negli ultimi tempi, io ero presente a Sestri Levante, non so se da lì è successo qualcosa, per tutto ciò che riguarda il sistema sanitario nazionale, che cosa viene garantito e come ci si può muovere nell'eventualità i ragazzi o i bambini addirittura, ecco, ne avessero bisogno. Diamo la risposta. Dunque, per quanto riguarda l'anagrafe, allora, un'interpretazione diciamo letterale non consente di iscrizione anagrafe, è ovvio che in via interpretativa si può anche pensare a un'interpretazione costituzionalmente orientata che possa consentire un'iscrizione anagrafica, a mio modesto parere è molto ardita questa interpretazione e credo che invece come giuristi noi dovremmo al più presto cercare di impugnare queste disposizioni per farle annullare dalla Corte Costituzionale o comunque farle disapplicare dai magistrati. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi però ai richiedenti asilo, che normalmente vengono forniti su base anagrafica, è la stessa normativa che prevede che possano essere forniti nel luogo di domicilio. Questo naturalmente vale per il servizio sanitario, quindi alle persone qua presenti deve essere garantita l'assistenza sanitaria e tra l'altro faccio lottare che questo è fondamentale non solo per le persone, comunque devono avere garantite tutti quelli che sono i diritti fondamentali della nostra Costituzione, l'articolo 32 ci parla del diritto alla salute, ma è anche legato alla dimensione della salute collettiva, perché ovviamente questo avrebbe meno qualora noi non supportassimo le persone che entrano nel nostro Paese. Al di là di questo però, anche se sta scritto che i servizi devono essere forniti, l'assistenza sanitaria deve essere fornita, in realtà senza iscrizione anagrafica ci sono infinite difficoltà burocratiche quotidiane. Faccio un esempio, aprire un conto corrente postale, senza un'iscrizione anagrafica, senza una carta di identità che a quel punto non può essere rilasciata, quando le persone spesso sono prive di passaporto, perché chi entra nel nostro Paese per richiedere l'asilo spesso non ha un documento del proprio Paese, proprio perché scappa dal proprio Paese, diventa assolutamente impossibile fare tutta una serie di piccole cose che tutti noi facciamo quotidianamente. Anche semplicemente andare in posta e spedire del denaro o paritare una posta per lì. E questo mette in grandissima difficoltà le persone. Da qui già si capisce quale potrà essere la difficoltà nei prossimi mesi. Allora anche Chiara Carlini aveva una domanda. Buonasera, nel caso di diniego da parte della Commissione e soprattutto nel caso non vi sia un appoggio da parte del Sindaco, ospitante lo Sprar, come ci dobbiamo comportare? In che modo possiamo tutelare le persone ospite all'interno delle strutture? Dunque, diniego della protezione o diniego di iscrizione all'anagrafe? Di protezione. Di protezione rimangono quelli che sono gli strumenti ordinari, quindi gli strumenti di ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale competente che per quanto riguarda i vostri servizi è sicuramente il Tribunale di Genova e da questo punto di vista posso dirvi che il Tribunale di Genova ha preso una posizione molto netta che è una posizione estrettamente giuridica per cui per tutta una serie di disposizioni che riguardano la successione delle leggi nel tempo, cioè come le leggi nuove possano influire su posizioni già in essere. La legge cosiddetta sicurezza, che io chiamo legge di sicurezza per i motivi che vi ho appena detto, non si applica a coloro che abbiano presentato domanda prima del 5 ottobre del 2018. Conseguentemente le persone che voi assistete qualora ricevano un iniego possono fare ricorso al Tribunale di Genova e richiedere sia lo status di rifugato, sia la protezione sussidiaria, ma anche questa protezione umanitaria che è stata abrogata perché per loro vale il fatto che ancora possono usufruire della vecchia normatina. Bene, grazie Elena Fiorini per il suo intervento e buon lavoro. Grazie altrettanto. Buona serata. Buon lavoro a tutti. Grazie. Bene, allora si vede già che il panorama futuro presenta molte problematiche, alcune incertezze, ma i ragazzi che voi assistite come vedono questi cambiamenti? Sono delusi forse anche della situazione che hanno trovato in Italia, ci volete raccontare anche qualche storia, Chiara? Allora, diciamo che al momento sono molto spaventati dalla situazione che si stanno trovando davanti, sanno benissimo che la situazione sta cambiando, si informano, ascoltano anche i telegiornali, poi anche lì vi è il problema del fatto che spesso alcuni ragazzi si informano tramite internet e molto spesso lì si incorre in notizie non vere. Il fatto che alcuni di loro hanno lasciato alle spalle delle situazioni veramente drammatiche e hanno affrontato anche dei viaggi molto pesanti, ad esempio la Libia è comunque un argomento tabù che molti di loro, nonostante siano arrivati in Italia da più di due anni, non si sentono ancora di parlarne, di affrontare questo discorso e di conseguenza loro hanno veramente investito tantissimo in questo viaggio verso l'Italia e quindi hanno tantissime aspettative. Loro manifestano l'interesse di rimanere o di imparare, quindi avere delle competenze e poi tornare anche nel loro paese di origine? Praticamente nessuno di loro vuole tornare nel proprio paese di origine, tutti stanno cercando di investire in un progetto qui in Italia, chi appunto sta cercando di prendere un titolo di studio, chi ha fatto dei corsi professionalizzanti, ad esempio un ragazzo ha fatto un corso per diventare saldatore e adesso ha avviato già due tirocini e quindi ognuno di loro sta appunto cercando di crearsi un futuro qui in Italia. Ecco su questo c'è una riflessione interessante che abbiamo raccolto proprio in questi giorni e proprio in Africa perché Don Fausto Brioni, il nostro direttore, in questo periodo è in Repubblica Centroafricana, ha raccolto la testimonianza del responsabile del seminario dei padri Capucini di Buar che è nel nord ovest del paese, in particolar modo ha raccolto la testimonianza di padre Jean Mighinat che parla di una povertà intellettuale da parte degli africani che decidono di lasciare il proprio paese, ma ascoltiamo le sue parole e poi le riprendiamo in studio. Perché questi paesi sono così poveri, nonostante tutte queste ricchezze? La gente che vive proprio in questo luogo non capisce la ricchezza di quello che hanno. La gente pensa piuttosto all'Europa pensando che lì c'è l'Eldorado, quello che chiamiamo così in francese perché lì forse la gente pensa di arrivare lì e trovare euro come se puoi trovare sul mercato, camminando trovi i soldi. Allora tutti vogliono andare lì perché forse lì la soluzione si trova ovunque. Ma l'Africa ha tutto e la povertà dell'Africa è soprattutto secondo me la povertà intellettuale perché siamo sempre in guerra, non la guerra voluta da noi, ma la guerra imposta da quelli che hanno conquistato queste terre come la Francia o gli altri inglesi che erano in Africa e hanno mostrato che il futuro non è qua ma è da questi paesi del nord del mondo. Quindi la gente non pensa di trovare la soluzione alla vita qua ma piuttosto andare lì. Ma adesso che vogliono andare non c'è possibilità perché se vanno tutti lì, la gente lì anche non avrà lavoro e quindi c'è un problema lì. Ma la soluzione sarà qua, non lì. Secondo me è chiaro. Io ho vissuto tre anni in Italia e ho visto che personalmente io non posso vivere in Italia perché c'è più bisogno qua di me che lì perché lì ci sono tutte le competenze ma qui non ci sono competenze. Entriamo in studio, cosa ne pensate Stefano? Devo dire che condivido il discorso appena ascoltato perché adesso io non vorrei far pensare a chi ci ascolta che cambio maschere e adesso dico no, devono tornare a casa loro, non dovevano neanche venire. Però è una specie di scontro culturale ma interno alla loro cultura che io ho già avvisato in più volte perché noi abbiamo addirittura come parrocchie ci sono molti preti che vengono dall'Africa, la nostra diocesi anche per questo è abbastanza famosa e addirittura io e Chiara abbiamo un collega che viene da Ruanda e come dire questo è qualcosa di prezioso perché si vede proprio Africa contro Africa, cioè il fatto che di fatto la povertà intellettuale si non aiuta. Gli stessi ragazzi che come dire sono e questo è un dato negativo che viene fuori per forza perché noi abbiamo a che fare con loro nel loro quotidiano, nei rapporti umani quindi come dire va da sé che qualcosa che stona viene fuori ecco al di là della buona integrazione e della buona accoglienza e i ragazzi sono veramente, ci hanno proprio il prosciutto sugli occhi letteralmente mi sento di dire no? e sono ancora un po' illusi alcune volte pur riscontrando che qui come dire l'integrazione prevede dei determinati step come dire ci sono vari livelli e allo stesso modo se lo sentono dire da dei connazionali o comunque da persone che a loro volta hanno un permesso di soggiorno lo devono rinnovare a ogni scadenza, primo fra tutti anche il nostro collega e loro però sembrano non ascoltare, sembrano non sentire che di fatto c'è questa problematica e hanno questa visione del futuro come dire no ma prima o poi avrò quello che stavo cercando, questa è una difficoltà anche nostra che forse troviamo spesso nel nostro lavoro di rendere veramente agli occhi dei ragazzi la realtà per com'è, cioè fargliela percepire veramente per quella che è e forse alcune volte il consiglio che mi sento di dare a loro è proprio quello di qui nell'integrazione imparare come dire a incammerare una cultura, un modo di vivere che sia anche non solo quello dell'io ma anche quello della propria comunità che viene abbandonata certamente e che deve essere anche istruita su che cosa è l'Europa, quante volte con i ragazzi si dice beh mi raccomando però di a casa quali sono le difficoltà anche perché come dire non ci sia qualcuno che vada incontro ai tuoi stessi rischi e come dire possa rimanere disilluso ecco da quello che trova e questo è un dato molto molto difficile e anche quindi la cura in questi ragazzi, la nostra cura verso di loro ha come dire educarli alla all'attenzione al costruire qualcosa di comune, al pensare in maniera comunitaria, in maniera globale ecco e non solo per il proprio, per se stessi ecco. Chiedo anche a lei Chiara quali storie ha raccolto anche di povertà e di fatica che hanno costretto alcuni di questi ragazzi a intraprendere il viaggio verso l'Italia? Ma molti vengono appunto da situazioni molto pesanti, ad esempio un ragazzo è partito da un paesino della Nigeria estremamente isolato con la madre, ha attraversato per settimane settimane a piedi passando nel deserto e sua madre gli è mancata di fronte durante il viaggio e l'ha dovuta lasciare lì perché altrimenti avrebbero abbandonato lì anche lui e avrebbero in questo modo oltre che rischiato la sua stessa vita anche buttato all'aria quello che appunto era il progetto di entrambi e quindi veramente ci dobbiamo soffermare su quello che affrontano queste persone perché molto spesso appunto ci si dimentica della situazione che vi è in molti paesi africani, del fatto che anche loro hanno degli affetti, hanno una vita e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Certo, ecco a proposito della situazione di alcuni paesi vediamo altre due interviste sempre realizzate da Don Fausto, sempre in Repubblica Centrafricana con due suore missionari francescane del Sacro Cuore che parlano da una parte del livello di istruzione e quindi anche di quello che può succedere, naturalmente la Centrafrica è un esempio però può valere per molti altri paesi del continente e dall'altra parte invece la situazione sanitaria. Vediamo allora le interviste realizzate con Alessandro Bavestrello. Qual è il livello culturale della gente? È un livello piuttosto basso e farei innanzitutto una distinzione tra la città e la campagna. In Africa c'è un fenomeno che si sta producendo che è la fuga dai villaggi, dalle campagne per andare ad abitare nei centri cittadini. In città le possibilità sono maggiori e quindi le scuole sono più numerose, gli inseriti gli insegnanti ci restano più volentieri, mentre invece andare in Bruce, andare in campagna dove mancano le strutture, dove addirittura non c'è neanche un servizio telefonico, i professori rifiutano di andare, i maestri puri e pure e quindi automaticamente la scuola non funziona. Bisogna anche considerare che in città ci sono i funzionari di Stato, ci sono persone più evolute che hanno la consapevolezza che mandare il figlio a scuola è importante, mentre invece in campagna dove ancora si vive in modo molto basilare un'economia di sussistenza il genitore non capisce che è importante che il figlio vada a scuola. Poi la guerra che è ricorrente, colpi di Stato, mutinerie, non ha fatto che aggravare la cosa perché l'anno scolastico dura magari quattro mesi e con orari che sono veramente molto molto flessibili con insegnanti e poi i bambini che hanno vissuto il trauma della guerra, figurati come stanno in classe quando hanno nella testa e nel cuore la tragedia che vivono in famiglia. Ci puoi descrivere la situazione sanitaria? A causa della guerra e dei disordini che ci sono continuamente la situazione sanitaria sicuramente non è migliorata. Noi abbiamo la fortuna qui a Boar che siamo tranquilli, possiamo lavorare e possiamo accedere anche all'acquisto di medicinali, di materiale, quindi possiamo dare delle risposte alle persone che vengono da noi. Il pubblico è un po' più a disagio anche se alcuni sforzi si fanno, sono stati integrati dei medici, del personale, però non hanno le risorse necessarie per poter far funzionare le loro strutture. Quindi tanti malati magari lasciano la struttura pubblica per venire a farsi curare nelle strutture private, nelle nostre strutture, qui in Niem oppure altre, Ioleo, Antigra, le strutture che sono qui vicino a noi e che possono dare delle risposte un po' più adeguate. Ecco parlavamo prima con Chiara in studio delle situazioni che possono portare i migranti a lasciare il loro paese, trova riscontro anche in queste parole tra le persone che assistite. La situazione geopolitica di un paese sicuramente è uno dei fattori che di più vanno ad influire sul fenomeno migratorio, indipendentemente dal fatto che vi sia una guerra o meno, perché non è detto che i migranti arrivino solo da paesi dove vi è la guerra, perché anche in situazioni dove vi è una situazione sanitaria e lavorativa estremamente precaria vi è un flusso migratorio e vi è veramente questo miraggio dell'Europa, perché tutti i ragazzi che abbiamo nelle strutture sono partiti vedendo nell'Europa un potenziale futuro, sono arrivati qui pensando di trovare lavoro in pochissimo tempo e tutti adesso hanno a che fare con quella che è la reale situazione nel nostro paese, però non è semplice appunto perché vi è un'enorme aspettativa e quindi investono tantissimo nella costruzione di un futuro indipendentemente dalla difficoltà che stanno incontrando. C'è una domanda che arriva da casa che riguarda il tema del lavoro, una ragazza da lavagna scrive a mio avviso i migranti non trovano lavoro non per il fatto che siano migranti gli vengano chiuse le porte davanti, ma perché non c'è lavoro per nessuno, in una situazione generalizzata. In Italia non c'è la cultura dell'occupazione, è un problema per noi italiani, per i migranti e per tutti. Cosa ne pensate? Non so Stefano, che voi naturalmente state cercando, lo dicevi anche prima, lavoro per le persone, che situazioni hai trovato? Beh, c'è da dire che un'altra difficoltà di questo lavoro è proprio mantenere gli equilibri fra i ragazzi che pretendono effettivamente delle volte di trovare lavoro subito e poi il riscontro di alcuni anche coetanei, di alcuni amici, anche personalmente, che dicono eh vabbè però il lavoro non c'è per nessuno, cosa si pensano di trovare, cosa si aspettano? E beh, la risposta è vero, sì, è così, il lavoro è difficile, forse per come è costruito il sistema italiano, anche delle volte si sente dire che il welfare di certi stati stranieri come dire è più avanzato e quindi permette una maggiore come dire integrazione e anche ridistribuzione della ricchezza e inserimento lavorativo. È vero che certi ragazzi italiani non hanno forse la voglia di fare alcuni lavori, alcuni lavori più tradizionali, però è vero anche il contrario, come dire. Quindi c'è proprio uno scontro a livello culturale che fa parte di questa, come dire, cultura della, forse, cioè di questo momento particolare della confusione, no? Dove è vero tutto e il contrario di tutto. Io penso, come dire, che certe cose vanno anche un po' reinventate, che probabilmente, come dire, possa essere da questo momento di confusione, possa nascere qualcosa che porti veramente a frutto, cioè un'intesa fra diverse culture, fra forse generazioni anche simili, non troppo lontane, che si possano reinventare un po' una società. Intanto la necessità di fare chiarezza, perché poi di fatto per questi ragazzi si pongono un po' due questioni, cioè per chi viene qua il bello è quello di far capire, come dire, che c'è una realtà che è costruita come è costruita, magari difficile, magari facile e va, come dire, piano piano va metabolizzata. Però c'è può essere la soluzione, come dicevo prima, anche di rieducare chi rimane a casa e quindi, cioè, a pensare che non si trova il bello solo nell'andare. Questo è forse un difetto che molti dei nostri ragazzi presentano, che, come dire, ci sarà un'altra opportunità, riprendo e rinizio. Forse noi italiani tendiamo a, o forse europei, a, come dire, a sederci, a dire vabbè adesso va male e invece questi ragazzi continuano a dire no vabbè ci sarà di nuovo qualcosa e quindi nessuna delle due situazioni, come dire, porta qualcosa di, porta da frutto, ecco, ci sono un po' due situazioni di stallo e, boh, la risposta è difficile, bisognerebbe reinventarsi la politica, reinventarsi il, come dire, l'appello almeno è quello di avere il rispetto della vita umana, cioè l'appello proprio della CEI che dice la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità dell'imbarbarimento passa dall'impegno a custodire la vita, ogni vita a partire da quella più esposta, umiliata e calpestata. Perlomeno qui su Indiociti abbiamo visto che questo lavoro si sta facendo. Come dicevamo prima, le situazioni sono quelle che non bisogna mai dimenticare, situazioni difficili che colpiscono e riguardano queste persone che vivono lontano da noi ma che però possiamo ascoltare anche solo incontrandoli e conoscendo appunto queste vicende. Noi ora vi proponiamo come esempio, in conclusione, la lettera che ha scritto una ragazza nigeriana al Ministro dell'Interno che è stata pubblicata giorni fa da Famiglia Cristiana. Sono solo alcuni stralci ma possono servire ad esempio per capire appunto come una situazione può essere davvero complicata. Ascoltiamo. Io vivevo alla periferia di Porta Court, la capitale dello stato del delta del Niger, una delle capitali petrolifere del mondo. Vivevo con mia madre e i miei fratelli in una baracca e alla sera per avere un po' di luce usavamo le candele. Noi come la grande maggioranza di chi vive lì. È dura vivere dalle mie parti, molto dura. Un inferno se sei una ragazza e io ero una ragazza. Tutto è a pagamento, tutto. Se non hai soldi non vai a scuola e non puoi curarti. Gli ospedali e le scuole pubbliche non funzionano e persino lì comunque se vuoi far finta di studiare o di curarti devi pagare. E come fai a pagare se di lavoro non ce n'è? La fame, la miseria, la disperazione e l'assenza di futuro sono nostre compagnie quotidiane. Il mio paese, la regione in cui vivo, dovrebbe essere ricchissima visto che siamo tra i maggiori produttori di petrolio al mondo. E invece no. Quel petrolio arricchisce poche famiglie di politici corrotti, riempie le vostre banche del frutto, delle loro ruberie, mantiene in vita le vostre economie e le vostre aziende. Il mio paese è stato preda di più colpi di stato. Al potere sono sempre andati, caso strano, personaggi obbedienti ai voleri delle grandi compagnie petrolifere del suo mondo, anche del suo paese. Avete potuto pagare così un prezzo bassissimo per il tanto che portavate via. E quello che portavate via era la nostra vita. Lo avete fatto con protervia e ferocia. La vostra civiltà e i vostri diritti umani hanno inquinato e distrutto la vita nel delta del Niger e impiccato i nostri uomini migliori. Le vostre aziende, in lotta tra loro, hanno alimentato la corruzione più estrema. Avete comprato ministri e funzionari pubblici pur di prendervi una fetta della nostra ricchezza. Leni, l'Agip, quelle di certo le conosce, sono accusate di aver versato cifre da paura in questo sporco gioco. Con quei soldi noi avremmo potuto avere scuole ed ospedali. A casa, la sera, non avrei avuto bisogno di una candela. Sarai rimasta lì, a casa mia, nella mia terra. Avrei fatto a meno della pacchia di attraversare un deserto, di essere derubata dai soldati di ogni frontiera e dai trafficanti, di essere violentata tante volte durante il viaggio. Avrei volentieri fatto a meno delle prigioni libiche, delle notti passate in piedi perché non c'era posto per dormire, dell'acqua sporca e del pane secco che ti davano, degli stupri continui cui mi hanno costretta, delle urla straziante di chi veniva torturato. Avrei fatto a meno della vostra ospitalità. Nel suo paese tante ragazze come me hanno come solo destino la prostituzione, lo sapete, e non fate niente contro la nostra schiavitù, anzi lo usate per placare la vostra bestialità. Io sono riuscita a sfuggire a questo orrore, ma sono stata schiava nei vostri campi. Ho raccolti i vostri pomodori, le vostre mele, i vostri aranci in cambio di pochi spiccioli e di tante umiliazioni. Ancora una volta la pacchia l'avete fatta voi, sulla nostra pelle, sulle nostre vite, sui nostri poveri sogni di una vita appena migliore. Concludiamo così dunque con l'invito a conoscere anche queste storie. Volevo chiedere a Chiara se ci fosse la possibilità da parte di qualcuno di incontrare anche i ragazzi che sono ospitati qui nella diocese. Ecco, si può fare? Bene, certo, i volontari sono sempre ben accetti. Chiunque volesse aiutarci in questo progetto può contattarci alla mail protezione internazionale chiocciolavillaggio.org. Bene, grazie per la vostra testimonianza, per la presenza questa sera, Stefano Ferrari e Chiara Carlini, operatori del villaggio del ragazzo per l'area migranti. Per l'approfondimento del Direttamente Su ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.